Sarà la Croce Rossa italiana a contattare telefonicamente a partire da lunedì i cittadini individuati dall'Istat per essere sottoposti a test seriologico nell'ambito dello studio nazionale che coinvolgerà 150.000 cittadini in tutta Italia. Lo annunciano l'assessore alla salute Nicoletta Veri e il presidente del comitato regionale della Croce Rossa Gabriele Perfetti. In Abruzzo il campione individuato dall'Istituto Nazionale Statistica è di 5.561 cittadini residenti in 62 comuni. La Croce Rossa attraverso operatori appositamente formati nei 14 comitati regionali abruzzesi contatterà i cittadini e fisserà gli appuntamenti in uno dei 32 centi individuati dalle ASL che seguiranno materialmente il prelievo. I campioni saranno analizzati dai due laboratori dell'Aquila e di Pescara. Un passo importante ha sottolineato l'assessore Veri perché questo studio consentirà di verificare l'attendibilità dei test sierologici i cui risultati attualmente non sono ancora validati dal Ministero.